They see me rolling, they hate... Cartelli troppo buffi... Volendo posso prenderli anche col dito, guarda... Sembra quasi di giocare al risico in real life... Cazzo vuole sto corvo? Se dico stronzate ragazzi per farsi più risate... Io mi chiamo Carmela... La marina mi ha costretta a venire al KFC... Buongiorno ragazzi, benvenuti nel nuovo video della Francia... Sono Stefano, Stefani conosciuto come... E oggi vi faccio vedere questo nuovo video da Parigi... No, ok, più bello che in italiano... Bene ragazzi, qui è Stefani e bentornati in questo nuovo video della Francia... Benvenuti in questo secondo appuntamento in compagnia della marina... Siamo nella casa... Quella lì, casa a casa... Quello è un letto dove abbiamo appena dormito 4 ore... Perché stanotte avevamo un sacco di sonno... Tu non sai la coniezione del tempo... Sei mai stato nella stanza all'ospedale del tempo? Io sì... Qui c'è il mio computer che sta scaricando i vecchi file... E adesso proveremo insieme... Prima di iniziare la giornata... Questo hamburger... Che si dovrebbe cuocere all'interno del microonde... A noi piacciono queste schifezze... Quindi proveremo assolutamente... 75 minuti... Cosa? 75 secondi... Ah, ecco... 75 minuti e finivamo domani per mangiarlo... Tu ingegnati... Io ragazzi vi faccio il tour di questa casetta... Questa è la porta dove si entra... E subito sulla destra abbiamo... Ta-dan... Il cesso... Però non c'è il bidet... Io odio Parigi... Dove tutte le città in cui non c'è il bidet... Vabbè... Che è successo? Sto come funziona... Ecco... Strano... Qui c'è il bagno... E subito davanti alla porta di entrata c'è l'altra parte di bagno... Che è composta da specchio... Doccia... Oggetti vari per contenere oggetti vari... Tipo questo... Una pastina... E un lavandino... Ripeto... Non c'è il bidet... E non è una cosa per niente carina... Qui si entra nel salotto... Barra stanza dal letto... È un monolocale... Un po' come quello dove sta Surry... Là abbiamo un armadio con dei vestiti... Qui abbiamo una postazione... Che sto utilizzando io per tenere il computer... E qui ci sono tanti bei libri... Con una piantina... Molto carina... Il mio posto del letto... È questo qua... Al muro... Io mi trovo meglio qua... 75 secondi... Sono 1 minuto e 15 secondi... Questa è la cucina... E c'è la Marina che sta facendo esplodere qualcosa... Cosa hai preparato qua? Perché ci sono due bicchieri da vino? Ciao Marina... Salute a tutti... Saluta... Non è salutato... Sei sicuro di quello che stai facendo? No amore... Ah... Infatti mi sembrava strano... Io che adoro il formaggio... Sono stato prima in una formaggeria... E mi sono comprato... Un pezzo di brì... Grande quanto il mondo... Amore... Sei evita di far cascare le cose? Qui ci sono tutti gli oggetti per fare da mangiare... Non faremo spesso da mangiare... Questa non è la dimostrazione... E qua fuori... È ancora una bella giornata... Che bello... Volevamo fare l'aperitivo prima di uscire... Però ci mangiamo qualcosa in casa... E poi andiamo a fare una passeggiata... Prima di andare a cena fuori... Io adesso vi saluto... Perché dovevo farmi anche la doccia... Ciao... Pensavate davvero che vi salutassi... Dobbiamo aprire il panino e assaggiarlo... Cosa stai facendo? Non mi chiede di aspettare un minuto così... Di nuovo là dentro... Ti apri un po' di brì? Sì... Formaggio... Formaggio... Amore... Cazzo sbagliato... Ho preso quelle col chili... Formaggio più buono che c'è... Il brì... Anche detto brì... Assaggerò una patatina con il brì... Assaggiato il brì... D'altronde hanno inventato... Dai, assaggiamo l'hamburger... Che stanno aspettando loro... So che la casa non è grande... Però evidentemente... Ci entrano un milione e trenta mila persone... E' terribile... Adesso è un nuovo metodo di cottura... Lasciare all'interno di un panino completamente freddo... Non è senso di mangiare... Non comprate i panini preassemblati... Siamo pronti per uscire... Non guardate i miei capelli... Che sono in condizioni pietose... La Marina che si sta facendo le foto... Dove aver spaccato tipo... Tre boccette in bagno... Marina ha spaccato i suoi trucchetti... Non abbiamo deciso dove mangeremo... Faremo un giro generale... Qui nella zona... E vediamo se c'è qualcosa che ci ispira... E poi... Ci vedremo... Ehm... Forse si... E' sempre... Ovunque... E dovunque... L'88... Ho deciso ragazzi... Di mettere questa parte al buio... Nel vlog... Perché siamo degli sfigati... Che hanno fatto un giro... Si sono resi conto... Delle vicinanze... Non c'era niente... Che gli ispirava... Esatto... La metro non ci andava di prendere la stessa... Perché siamo stanchi morti... Abbiamo lanciato tutto il giorno... Quindi siamo andati a fare la spesa... Però stavolta... Prendendo delle cose tipo... Riso... Alla cantonese... Sushi... C'è una salsiccia... Un salame... Un salame... Scusate... Una bottiglia d'acqua... Perché non abbiamo acqua... E adesso... Mangeremo in casa... Guardando un film... Yippee... Sembra molto una scala... All'Harry Potter questa... È ripidissima... Ti aiuto con le borse... Aspetta... Riso... Sushi... Guardando Catch Me If You Can... Con Leonardo Di Capio... E tra poco dormiamo... Mi sa che è di tutto mattina... Guarda... Il film era molto bello... Poi c'è nessuno... La Marina dorme... E io sto editando il video... Per domani... Paper please... Ho deciso che questo vlog... Uscirà settimana prossima... E il primo uscirà di sabato... Faccio della buonanotte alla Marina... Buonanotte... Mi riesco di editare... Un po' vengo a tornare... Buonanotte... Buongiorno... Buongiorno... Steffi deve editare... Visimi Rowland... De Hayten... Rowland and 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 and... Siamo fuori... Stiamo andando a... La Concorde... La Marina è fissata col... Potrebbe essere un Pokémon per quanto ne sappiamo... Vuoi anche te una scatola per cani? Perché? Vediamo di non sbagliare il metro eh Marina... Vietato a reggere dei fulmini mentre si sale sulla metro... E non andare mai davanti... Non lanciarsi sui binari... Non schiacciare dei conigli sulla metro molitana... Cartelli troppo buffi... I conigli hanno il vizio di chiudersi le dita nelle porte... L'onda energetica la puoi fare solo nel lavandino... Dove musicisti privati... Abbiamo trovato il Paris Eye... Tipo quello che c'è a Londra e quello che c'è a Las Vegas Marina... Non è visto la Torre Eiffel... C'è quella Torre Eiffel... Dopo andiamo? Ma finalmente il primo vlog l'hai promessa e alla fine non siamo andati... Non ero mai stato così vicino alla Torre Eiffel... Volendo posso prenderla anche col dito... Guarda... E poi il classico cartello vietato tagliare la testa ai cani... Vabbè... Andiamo a fare il bagno nello stagno? Polposo sì... Se mi riesce io pesco un pesce... Polposo sì... Sulla ruota c'è la bandiera del Belgio... Per quello che è successo... E ora andiamo agli Champs-Élysées... Ce l'avevamo persi quindi abbiamo comprato una cartina... L'abbiamo presa grande perché... Ci piace orientarci in dimensioni reali... La battaglia di Verdun... Sembra quasi di giocare a risico in real life... Mi hanno rubato la macchina e ci hanno aggiunto un numero... Sti bastardi per non farsi beccare... Una Lamborghini o una Ferrari... Stiamo mangiando al Quick... Stiamo andando all'Arc... Qua posso riprendere finalmente... Delizierò il mio Big Mac non Big Mac... Le mie patatine senza saia... La Marina è contro i fast food... L'Arc du Triomphe l'abbiamo raggiunto... Siamo anche passati in sottopassaggio... Quella è la Torre Eiffel... Questa è la Fiamma della Libertà... Che c'è scritto è la replica... Della Fiamma che c'è sulla Statua della Libertà... Che figo... Ora andiamo laggiù raga... Dobbiamo solo attraversare un mega ponte lì... Avevano detto che pioveva ma fa caldo... Mi sono dovuto spugliare tutto... Andiamo Marina... Dopo lo mettiamo anche noi un lucchetto... Non va... Non è così... Sarei pronti? Va 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 va... Porca fa... È gigantesca... Dalla gente come formichine... Che sale e scende... Sale e scende... Boia... Cazzo vuole sto Corvo? È la prima volta che vedo la Torre Eiffel... La seconda? La quinta? E' la quarta... E' la quarta... E' la prima volta che vedo la Torre Eiffel... Mi sa che non saliamo lassù in cima Marina sai... Quella laggiù è la coda... Però è mastodontico... L'ho costruita nel 1890 tipo... Giusto? Sì adesso... Perché non fanno niente del genere adesso? Non sono più capaci... Anche a Parigi nei bagni pubblici... Si trovano... I fan italiani... I fan che ti seguono sul canale... Però... Lui vive a Parigi quindi è giustificato... Se sei venuto in vacanza qua sai... Che casualità avevi beccato... Quello è un mortaio... Quello è un cannone... Anzi sono tanti cannoni... Questo è un esemplare di Marina Selvatica... Non sono i cannoni che ci piacciono... Accovacciata... Dupido... Marina finalmente vengano a prenderti... Bello entriamo? Siamo riusciti ad entrare... Non sanno che siamo degli youtuber... Che ganso ho tutte queste piantine in mezzo al campo... Questo è il pisciatoio... Laggiù c'è un car armato... Allora vado al car armato aspetta... Abbandono la Marina laggiù... E vado al car armato... Adios Marina... Non mi ha visto... Credo che non mi abbia visto... No che mi ha visto... C'è pure la cappella Sistina laggiù... Se dico stronzate ragazzi... E' per farsi più risate... Quella laggiù è la tomba di Napoleone... Grazie di non toccare il car armato... Che bello... Essere o non essere... Questo è il vero dilemma... Sei o non sei Napoleone... Ci siamo persi Marina... Di la verità... Perché dici di no... Perché me la ricordo... Siamo persi... Non sappiamo dove andare... Avevamo intenzione di fare un aperitivo stasera... Tipo in un posto alto di Parigi... Dove si vede gran parte della città... Però non sappiamo... Troppo tardi già... Sono 5... Allora voglio andare... Sì che voglio andare... Ah allora di me si va... Tu l'hai detto 10 minuti fa... Siamo sberduti per Parigi... Il metro non hanno il touch... C'hanno il rullo... Il rullo è molto più figo... Abcd... Blah... Ci riposiamo un po' e... Questo fiore al mezzo rompe i coglioni... Poi decideremo dove mangiare stasera... Io sono stanco già adesso... Voglio dormire... 3... 2... 1... Colpita e affondata... Iniziate la nostra corso col 2 in tempo... Dobbiamo prendere il tramonto... Dal cielo... Di Parigi... Andiamo al Saint de Pompin Dieu... Ci siamo... Il cielo sta diventando cupo... Non ce la faremo mai... Guardate la Marina si è fatta super bella... Perché lei fa la faccia stupida... Siamo nell'ascensore... Che farà un altissimo piano... E poi dobbiamo camminare... Per arrivare in cima al ristorante aperitivo d'autore... Dobbiamo svuotare tutta la roba... Ok... Scale mobili ovviamente rotte... Perché abbiamo fortuna... So che si vede sfocato... Ma è colpa del vetro sporco... Oh... Finalmente non c'è più il vetro... Riusciamo a vedere tutta Parigi... La giugiatura Eiffel... Però... Di qua non si riesce a vedere purtroppo... Peccato... Ci vede più tramonto riflesso nel vetro qua... Che... Da qua sopra... Alla ricerca del ristorante... Ma prima vi faccio vedere... Che hanno acceso la ruota panoramica... Vabbè c'è un nuvolone che... Non promette per niente bene... Domani dovrebbe... Quella è la ruota... E quella torre che hanno acceso... Però oggi siamo qua stasera... Quindi niente torre accese... Questa è la marina... Io mi chiamo Carmela... Qui purtroppo adesso è spenta la fontana... Però... Vedete ci sono tutti strani... Oggetti al suo interno... Abbiamo cercato per giorni il KFC... E l'abbiamo trovato stasera... Che abbiamo intenzione di non mangiare il KFC... E poi vedete tutto sfocato... Perché devo fermarmi a seconda... KFC... Cazzo perché l'hanno messo qua... Siamo arrivati al ristorante... Si chiama La Pera Tranquilla... Au Pera Tranquilla... Abbiamo preso un omelette... Un pezzo di carne... E una sorta di antipasto... Fatta con delle tartine... Vediamo cosa arriva... Io dopo vado al KFC... Io dopo mi prendo una crepes gigantesca... Alla Nutella... No io posso ancora... Più veloce della luce ragazzi... Carne... Antipasto... E omelette da marina... Ho una fame assurda... Quindi... Mangiamo una patatina... In vostra compagnia... Pensavate non assaggiasse insieme a voi... E tutta la carne... Un po' sciocca... Dopo ci metto il sale... Questo è l'antipasto... Buono... Pane con formaggio... E prosciutto... Non toccarlo per piacere... Staggazzo... Abbiamo scoperto che il conto in francese... Si scrive... E si dice... L'addition... L'addition si vous plaît... Ora crepes... E si va a calce... E KFC... Nooo... Io lo prendo... La marina mi ha costretta... A venire al KFC... Noi abbiamo già mangiato... Eravamo a cena due secondi fa... E lei va venire al KFC... Missione KFC presa... Ora prima di andare a casa... Crepes... Ma prima... Pisciatina nel bagno... Gratuito... Automatico... Che sta effettuando il lavaggio... Sinceramente ho paura... Di quello che può succedere... Cioè se rimango chiuso qua dentro... Sono fottuto... A fuoco tipo... Ti viene la peste... Probabilmente... Aiuto... Si è chiusa la porta... Ok... Devo pisciare qua... E fare in fretta... Il bagno non mi ha utile... Stiamo prendendo la crepe... Nutella e banana... La marina sta già mangiando... Le alette piccanti... Ma abbiamo scena qua adesso... Si prende un dessert... Sono piccole? Ma buone? Le matizzerano più unche... Volevi più... Cos'è questo? Le matizzerano... Dorate... E la marina abbiamo deciso... Abbiamo un KFC... In Italia... Quanti di voi ci vengono? Ma non come questo... Più buono... Più buono... Con le cosette dorate... Quella è la mia crepes... Sta mettendo la banana... Sta spalmando dentro... Cibo... Buon appetito... Grazie... Buonasera... Ciao... Oggi è tipo tutto il giorno a mangiare... Siamo stati... Pezza, pasta, mandorino... Buonasera... A mangiare... Grazie... In questo morso c'era poco da Nutella... Ci sta? Brucia ma è buonissima... E la marina è rimasta solo una nuggets... Invece delle goleador... Mandateci... Le nuggets del KFC... Stiamo andando alla metro... Per tornare a casa... Per concludere questa lunga giornata... È stata molto stancante... Speriamo di avervi fatto... Comunque divertire... Vi avervi fatto vedere un po' di cose interessanti... Quella crepes mi ha ucciso... Veramente... Cioè mi sento esplodere... Arrivo a casa... Mi butto sul lecchio... E mi sveglio domani l'altro... Marina ha imparato un nuovo gioco... Faccia vedere... Vai... Buonasera... Buonasera... È una torta... Questo video vlog termina qua... Ne sono successi tutti i colori oggi... Spera vi sia piaciuto... Se è stato un pollicione in su... Commentate... Condividete... Se è guarda la scacca... E alla prossima prossima video... Questa è sempre tutto... Buuruuu... Tutti il video... Ciao... Per bene... Perché tu vuoi... Scema...